Un derby farcito da un gran numero di ex. In casa Real Sant'Egiglio la gara esterna di Tramonti contro la Pro Pagani sarà condita proprio dalla curiosità relativa ai tantissimi calciatori del Real che in passato hanno vestito la casacca della Pro. A disposizione di mister Fontanella dunque ci saranno motivazioni ancora maggiori per i vari Pisapia, Napodano, Silvestri, Bencivenni, Tortora e Anielo Ferraioli, quasi tutti inseriti nel probabile 11 di partenza per il derby. Il técnico del Real ritroverà in cabina di regia il prof. Silvestri, dovendo però risolvere un paio di ballottaggi che riguardano il reparto arretrato. Per la zona centrale, accanto a Beggivenni, il dubbio tra Savino e Panico sarà sciolto solo in extremis da Fontanella, che deciderà nell'imitata vigilia pure per una delle due fasce laterali. Falcone al momento sembra favorito su Martone, ma la scelta sarà motivo di interesse pure per Pisapia, che riceverà in consegna l'una o l'altra corsia esterna difensiva in base all'ander schierato dalla parte opposta. Il blocco dei tre giovani in età di Lega sarà completato da Colasante, schierato nel terzetto di mediana con Silvestri e Giovanni Ferraioli, e da Fiamma, che completerà il tridente d'attacco insieme a Napodano e a Capitano Tortora. Real Sant'Egidio in serie positiva da quattro partite, scinnico nell'impegno dello scorso weekend contro il salmito Positano del presidente onorario Alessandro Cicchipavone, battuto con la doppietta del gioio di fascia vis-à-vis. Un successo che ha confermato la formazione di mister Fontanella nei piani altissimi della guardatoria regione B di promozione, con quattro punti di distacco dal battistrata Castel San Giorgio e uno solo dal Piemonte, secondo della classe.